Un mistero che fa pubblicità di sé non è cristiano. Papa Francesco, nell'Omelia, ha elogiato il silenzio, che è la vera forza dello spirito. Il Signore sempre ha avuto cura del mistero e ha coperto il mistero. Il mistero non ha fatto pubblicità del mistero. Un mistero che fa pubblicità di sé non è cristiano, non è un mistero Dio, è una finta di mistero. E' questo che è accaduto alla Madonna qui. Quando riceve il suo figlio, il mistero della sua maternità virginale è coperto. È coperto tutta la vita. E lei sapeva questo. Quest'ombra di Dio ha in noi, nella nostra vita, anche l'aiuto di coprire il nostro mistero. Il nostro mistero dell'incontro con il Signore. Il nostro mistero del cammino della vita con il Signore. Il nostro listede è il signore. Grazie a tutti.